Amici di FanoTV, la più cordiale buonasera. In questo approfondimento in studio faremo un confronto con i tre consiglieri di minoranza del comune di Mondolfo in merito al recente consiglio comunale. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Buonasera a Danteo Bonacorsi, capogruppo della lista civica di minoranza futura tua al centro, benvenuto. Grazie e buonasera a tutti. E buonasera ad Alessandro Tonelli, dottore commercialista. Grazie, buonasera. Allora, lo scorso 6 marzo si è tenuto il consiglio comunale in cui si è parlato del DUP 2023-2025 e del bilancio preventivo 2023. Entrambi sono stati bocciati, io partirei da qui. Sì, abbiamo bocciato il bilancio che è stato discusso nell'ultimo consiglio comunale perché è un bilancio che pesa ancora di più sulle tasche dei cittadini. Infatti il bilancio prevede un aumento delle entrate rispetto al 2022 di 600 mila euro. Quindi questo aumento di entrate del comune corrisponde dall'altro lato ad una uscita a carico dei cittadini che sono contribuenti. Questi 600 mila euro si scompongono su varie voci. Ci sono 40 mila euro in più di entrate relative alle violazioni del codice della strada. C'è un aumento delle tariffe per le lampade votive del 20% che quindi garantiscono una maggiore entrata di 20 mila euro. C'è una maggiore entrata per il servizio asilo nido e per il servizio mensa che entrambe determinano un incasso di 85 mila euro in più rispetto al 22 per quanto riguarda le casse comunali e dal 2023, questa è stata la novità, hanno introdotto il parcheggio a pagamento sul litorale, vorranno introdurre per il periodo estivo il parcheggio a pagamento sul litorale di Marotta e questa operazione consente al comune di incassare 240 mila euro a fronte di spese che si attestano all'incirca per il primo anno sui 180 mila euro. Quindi è un'operazione che consente al comune di incassare netto 60 mila euro a scapito dei cittadini e dei turisti che verranno in vacanza a Marotta. A questo si aggiunge poi 150 mila euro che riguardano la gestione della farmacia comunale di via Ferrari che con il passaggio dal comune di Fano al comune di Marotta questi introiti quindi possono essere registrati all'interno del bilancio comunale. Oltre a queste entrate dirette da parte del comune stipulerà il comune tre mutui per circa 2 milioni e 600 mila euro per finanziare delle opere importanti per il territorio, però anche questi mutui di circa 2 milioni e 600 mila euro peseranno sulle tasche dei cittadini e soprattutto delle future generazioni per i prossimi vent'anni, essendo mutui ventennali. Quindi quello che noi ci aspettavamo era che a fronte di queste entrate di 600 mila euro venissero garantite ai cittadini degli alleggerimenti, soprattutto ad esempio penso alla tassa rifiuti oppure penso alla liquide IMU che attualmente sono al massimo per quanto riguarda il comune di Mondolfo e in particolare noi tenevamo molto ad un'introduzione di una liquida IRPEF a scaglioni che permetterebbe di far pagare in base all'effettivo reddito, invece attualmente la liquida IRPEF a scaglioni non è introdotta nel comune ma è prevista una liquida massima, cioè lo 0,8% del reddito indipendentemente da quale che sia il reddito, quindi sia che uno abbia dei redditi bassi sia che uno invece dichiari dei redditi molto alti. L'unica cosa che si è vista all'interno del bilancio 2023 è semplicemente una riduzione per la retta della riflessione scolastica per le famiglie numerose che però diciamo che costa qualche migliaio d'euro e non di più, circa 6-7 mila euro. Quindi noi per queste motivazioni abbiamo votato compatti contro questo bilancio e contro la nota di aggiornamento al DUP. C'è un altro punto che ci piace attenzionare, quello relativo ai piani regolatori del territorio, soprattutto quello riguardante il comune di Mondolfo, quindi diciamo della parte vecchia. Sì, diciamo che con l'acquisizione da parte del comune di Mondolfo, dell'ex parte del comune di Marotta di Fano, ci si trova con due piani regolatori diversi che a tutt'oggi sono stati sistemati tramite varianti continue, ma non con un disegno organico. Quindi diciamo che la necessità di aggiornare un unico strumento edilizio per tutto il territorio sia ormai giunta e anche superata come tempistica, anche perché andremo ad affrontare delle situazioni molto particolari nei prossimi anni su cui fanno parte sia il comune di Mondolfo, ma anche il comune di Fano e in parte la provincia e il comune di San Costanzo, ovvero la realizzazione del prolungamento della complanare che va da Marotta a Fano, praticamente alla Tombaccia, si dovrebbe collegare alla rotatoria della Tombaccia, la realizzazione, anche se in tempi più o meno lunghi comunque, dell'eventuale spostamento della tratta ferroviaria o del raddoppio, che forse è più corretto dire perché quella lungomare non varrà mai spostata ma varrà raddoppiata la linea all'interno e comunque anche la realizzazione insieme al Consorzio di Bonifica di quello che è l'elemento e la progettazione fondamentale per la risoluzione dei problemi che riguardano gli allargamenti sia di Ponte Sasso che di Marotta, ovvero di questo famoso scolmatore a monte dell'autostrada. Quindi tutti i progetti che insistono in una stretta fascia di terreno che va dall'autostrada al mare, per cui la necessità di realizzare un nuovo piano regolatore che include e preveda queste opere sicuramente è molto importante e riguarda soprattutto lo sviluppo della città futura, di quello che vogliamo costruire per il futuro. Quindi questo è un punto cardine che va realizzato il prima possibile, non si può continuare a fare varianti su varianti per riuscire a sistemare le cose un pezzettino alla volta. Altro aspetto importante è quello che riguarda i lavori pubblici, tanto per citarne alcuni, i nuovi loculi cimiteriali, oppure i lavori di ammodernamento antisismico della scuola primaria Enrico Fermi o ancora dell'ampliamento dell'asilo Brontolo. Ecco, come mai c'è stato questo protrarsi dei lavori, dei lavori stessi? Diciamo che questo è un altro degli aspetti negativi di questa comune e di questa amministrazione, ovvero i lavori che vengono realizzati all'interno del comune di Mondolfo si sa quando iniziano ma non si sa mai quando finiscono. Non c'è stato un lavoro significativo come importo o come realizzazione, quindi che non sia la semplice manutenzione nuda e cruda, che abbia rispettato i termini previsti nei contratti. Se pensiamo che la scuola media siamo, quando arriveremo a questo settembre, con oltre due anni di ritardo, il cimitero più o meno viaggia sulla stessa tempistica. Per quanto riguarda poi le opere realizzate, ma anche l'adeguamento sismico del Bastione Sant'Anna abbiamo sforato di circa un anno. Cioè c'è effettivamente all'interno della struttura, ma non è tanto all'interno della struttura in sé per sé, ma forse di come vengono gestite dal punto di vista dell'amministrazione queste opere, fa sì che ci troviamo sempre in una situazione estremamente particolare. Anche adesso la realizzazione della rotonda da parte dell'ANAS all'incrocio tra la strada statale vergolese, la strada statale adreatica, iniziata, diciamo il percorso iniziato nel dicembre del 2021, prevedeva in prima battuta la realizzazione non a febbraio perché avrebbe causato problemi con la stagione estiva. Spostata a settembre, settembre siamo arrivati a marzo, ma sostanzialmente lì il problema era anche un altro. Il sindaco ha dato delle date pur sapendo che il progetto da parte di ANAS è stato approvato a ottobre-novembre del 2022, quindi diciamo ci si è un po' giocato su questo, su questo spostamento di date, però sta di fatto che i lavori previsti per sei mesi inizieranno a brevissimo e comunque finiranno a settembre e quindi la parte centrale di questi lavori sarà fatta nel periodo estivo, quindi giugno, luglio, agosto ci troveremo con un cantiere aperto in una zona già critica con il semaforo, quindi figuriamoci con un cantiere in movimento. A proposito di periodo estivo, che è la stagione più intensa per il turismo, facciamo proprio un focus su questo aspetto altrettanto importante. Che cosa ne pensate Bonacorsi? Il turismo è sicuramente importante perché per come noi la vediamo e anche ritengo io è il punto principale dell'attività economica di sviluppo del futuro di Marotta. Turismo che però deve avere un suo target, deve essere indirizzato su qualcosa. La proposta generalistica che viene messa in campo serve a poco. Oggi come oggi il turismo si basa su un discorso di emozioni, di esperienze che vengono provate. Quindi la scelta che vengono fatte da chi viene in vacanza è legata a determinati fattori. Quindi il dare tutto non va bene. Bisogna che questo comune e questa amministrazione faccia una scelta su che tipo di turismo vuole creare, perché è fondamentale per il futuro e soprattutto, riallacciandosi forse anche il discorso del bilancio, la tassa di soggiorno deve essere spesa interamente per un discorso sia di accoglienza che di promozione del territorio. Nel bilancio di previsione del 2022 erano state messe a bilancio per il turismo 23 mila euro, che in corso d'opera sono diventate 43. Quest'anno ripartiamo con un 43, ma la tassa di soggiorno siamo sui 70 mila euro. Quindi c'è la necessità di investire in questo territorio per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda l'accoglienza, per quanto riguarda la programmazione. Rivedendo anche il discorso dello IAT, passando magari da punto statico a punto dinamico in cui ci sia la possibilità della promozione dei prodotti enogastronomici del territorio, ma l'importante è quello di stabilire quale target si vuole dare a questo territorio. Non è possibile che mettiamo assieme famiglie con locali aperti fino alle 3, alle 4 di notte con la musica. Sono queste cose che non vanno bene. Bisogna individuare una scelta su quale territorio, per il territorio, su quale futuro si vuole dare a questo tipo di turismo. Perché oggi è importante l'esperienza, la sensazione che tu riesci a trasmettere ai visitatori. Quanto è concreta la necessità di armonizzare lo statuto comunale per far sì che funzioni poi il Consiglio Comunale? Insomma parliamo anche della trasparenza, di documenti legali. Diciamo che noi ci siamo trovati con uno statuto comunale rifatto di recente rispetto ad uno molto più vecchio. Però lo statuto è collegato a tutta una serie di altri strumenti ovvero il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e il regolamento delle commissioni che sono quelli vecchi, collegati al primo statuto. Per cui se noi andiamo a valutare un determinato articolo presente nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale non corrisponde a quello che c'è nello statuto del Comune. Ci sono tutte cose che devono essere rimesse a posto ma anche qui sono quasi 7 anni che queste cose non vengono fatte. Non si può sempre rimandare, rimandare e prendere tempo. C'è la necessità di armonizzare due cose che sono importanti per il funzionamento del Comune. Altro consigliere di minoranza a cui do il benvenuto è Marco Gentili, buonasera. Buonasera, buonasera. In fase di prepensionamento da un'azienda nazionale del settore elettrico e questa sera qui con noi per porre attenzione sui lavori di ordinaria manutenzione. A partire dal verde pubblico, agli asfalti e quant'altro, e la pubblica illuminazione. Allora non c'è dubbio che questo della manutenzione delle aree pubbliche, quindi asfalti, quindi illuminazione, ma anche giardini, il verde, la cura del verde, eccetera, è uno dei problemi forse di tanti comuni ma in particolare a Mondolfo non sta trovando risposte adeguate perché per pensare, come dire, di tenere a posto tutto questo ci sono risorse da spendere, c'è il personale da impegnare soprattutto, ma si ha poca visibilità perché alla fine insomma non si tratta di realizzare delle nuove opere ma si tratta di tenere bene per far vivere bene i cittadini e anche gli ospiti che ci vengono a trovare, che ci vengono a trovare nella località di Marotta che è al mare ma anche nel centro di Mondolfo. Insomma noi oramai da anni siamo un po' definiti come la terra delle due vacanze in una perché proprio riusciamo a coniugare insieme la storia insomma del centro Mondolfo con la realtà, come dire, del turismo verso il mare e quello che noi in qualche maniera proponiamo, che abbiamo proposto all'amministrazione comunale e che torneremo nuovamente a proporre è in qualche maniera una sorta di agenda elettronica che possa magari con un applicativo ad hoc, oramai ci sono diversi comuni che la stanno adottando qualcosa di questo genere, che possa acquisire le segnalazioni fatte da tutti i cittadini e dia una priorità a quelli che sono gli interventi da realizzare in maniera tale che se un cittadino si trova con la buca nell'asfalto vicino a casa o con alcune lampade che non funzionano, anche quindi con problemi che riguardano la sicurezza, alla fin fine il cittadino stesso, i cittadini possano in qualche maniera immaginarsi quando quelle problematiche vengono risolte dopo cinque giorni, dopo un mese, se la priorità che viene attribuita non è particolarmente elevata. Ecco, questo credo che sia una situazione veramente importante. Nell'arco di quest'anno e mezzo quasi di consigliatura, in comune su questi argomenti abbiamo presentato spesso e volentieri delle interrogazioni, delle emozioni, delle interpellanze, ma insomma le risposte che ci sono state date sono sempre state puntuali rispetto al singolo problema che veniva evidenziato, ma non è mai stato strutturato nulla di concreto che possa essere adeguato anche per il futuro, insomma, e di facile utilizzo e comprensione da parte dei cittadini, perché questo credo anche che sia un altro elemento, crediamo che sia un altro elemento assolutamente... Si evidenzia una certa discrepanza anche tra la gestione delle risorse idriche ed energetiche, cioè tra i divieti e le ordinanze che sono in atto e poi alla fine non ci sono sanzioni per i trasgressori. Ma guardi, la volontà ovviamente non è quella tanto di sanzionare il cittadino, ma non c'è dubbio che ormai sono alcuni anni che rispetto alle risorse idriche, le comunità e anche il comune di Mondolfo, un po' di tutta la regione Marche, stanno emettendo delle ordinanze nel periodo estivo che vanno a limitare la possibilità di utilizzo dell'acqua distribuita dai pubblici acquedotti per innaffiare gli orti, i giardini, eccetera. Lo si può fare in alcuni momenti specifici, però risulta assolutamente strano che nel 2022, nel 2021 nessuna multa sia stata elevata, eppure di tanto in tanto qualcuno che abusa probabilmente c'è, lo si vede. Non siamo noi che dobbiamo andare a fare il delatore e denunciare la cosa, però credo che come lo vedono i consiglieri di minoranza, anche chi amministra, quindi anche gli assessori si rendono conto di questa problematicità. Cosa si potrebbe fare? Guardate, da questo punto di vista noi crediamo che sia assolutamente indispensabile e necessario pensare a innanzitutto a censire anche quelli che sono i pozzi privati. Sappiamo benissimo che per aprire un pozzo oggi la domanda tramite l'amministrazione comunale deve essere presentata verso la provincia, rivolta alla provincia, però il nostro comune non sa esattamente quanti pozzi privati insistono sul nostro territorio. Perché dico questo? Perché i pozzi privati che normalmente servono agli imprenditori agricoli per innaffiare come dire le proprie culture, vengono alimentati dalle stesse falde che più o meno in località sterpettine alimentano la captazione di acqua per il pubblico acquedotto. Allora se si innaffia troppo il rischio è che la falda si abbassi e quindi l'acqua a sufficienza ci sarebbe ancora ma potrebbe come dire diventare non sempre potabile perché si eleva in qualche maniera la concentrazione dei nitrati, quindi di alcuni elementi chimici che sono presenti nell'acqua. Ecco da questo punto di vista stiamo chiedendo all'amministrazione che anche per i pozzi privati si possa prevedere una sorta di regolamentazione, quando possono prelevare, quando non lo possono fare. Ecco questo è l'argomento. Sull'aspetto energetico credo che è sotto gli occhi di tutti l'aumento, gli aumenti che soprattutto nel 2022 adesso in realtà stiamo registrando una piccola decrescita, lenta, ma comunque sembra abbastanza costante. Tuttavia nel 2022 ci sono state come dire dei costi, dei picchi veramente molto elevati. Tenete presente, teniamo presente che non tutti i cittadini hanno la capacità di potersi dotare ad esempio di impianti autonomi di generazione elettrica da fonti rinnovabili perché tutto il centro storico è normalmente escluso da questo. Abbiamo recentemente chiesto all'amministrazione comunale di provvedere a redigere quantomeno un regolamento rispetto al quale anche con qualche contributo sostenevamo noi da parte dell'amministrazione si potesse pensare a dei pannelli fotovoltaici costituiti nel centro storico da tegole appositamente come dire realizzate, che hanno un costo superiore ma che comunque potrebbero garantire in qualche modo la produzione di energia elettrica. Un'altra mozione che l'amministrazione ha voluto assolutamente bocciare è stata quella sulla realizzazione di quei cosiddetti comunità energetiche da fonti rinnovabili che potrebbero in qualche maniera aiutare i cittadini, le amministrazioni stesse e anche le piccole imprese perché insomma i nostri comuni sono comuni di piccole dimensioni e ad avere cosa? Ad avere intanto una dimensione di piccoli impianti fotovoltaici che non è necessario che siano collocati tutti nello stesso luogo in cui poi l'energia elettrica viene utilizzata ma come dire ci possono essere dei produttori che sono contemporaneamente consumatori di energia ci possono essere associati in queste comunità solo consumatori come anche solo produttori però è necessaria e opportuna, non obbligatoria ma è opportuna una sorta di regia pubblica di tutto questo e con la nostra amministrazione a differenza di quello che stanno facendo comuni e noi vicini come Fano, come Pesaro, come Urbino non ha voluto per il momento nemmeno prendere in seria considerazione questa ipotesi, questa opportunità, ribadiremo di nuovo la richiesta, cercheremo di strutturarla meglio ma insomma certamente non ci si ferma da questo punto di vista Rispetto al nostro tempo che è limitato alla vastità degli argomenti è infinita io vorrei fare una battuta per esempio sui fondi del PNRR perché insomma anche questa merita attenzione per esempio Per quello che riguarda i fondi del piano di ripresa e resilienza è previsto ad esempio che le stesse comunità energetiche possano usufruirne ecco se non prendiamo in considerazione la possibilità di costituirne certamente non avremo nemmeno la possibilità di accedere a queste risorse magari non sono risorse infinite però bisogna pur sempre presentare un piano diciamo che per il momento di alcuni progetti che la nostra amministrazione ha presentato l'unico mi pare che è stato finanziato è stato quello del rifacimento che deve ancora essere avviato in verità dell'asilo Nido Brontolo a Centocroci ecco però da questo punto di vista ci sarebbe credo molto ancora da fare Assolutamente sì io mi volevo fare semplicemente una un'aggiunta al discorso dell'utilizzo delle risorse idriche e volevo mandare diciamo cogliere l'occasione per porre l'attenzione sia dell'amministrazione ma anche dell'utenza che poi andrà ad utilizzare delle doce pubbliche che sono situate nelle spiagge libere che essendo appunto gratuite molto spesso durante l'estate c'è uno sperpero di acqua che veramente è una cosa molto importante e diciamo che è anche una cosa negativa quindi quello che volevo dire sia da una parte dall'amministrazione eventualmente di cogliere delle opportune misure per evitare questo spreco di acqua ma anche ovviamente sta nella popolazione dei turisti che utilizzeranno queste doce pubbliche ad avere poi la diciamo la parsimonia nell'utilizzare quella limitatamente necessaria e quindi ecco volevo cogliere poi come giustamente diceva Marco poco fa purtroppo per quanto riguarda invece il progetto della della palestra nella scuola media fa di Bruno che era un progetto che era stato pubblicizzato anche nei giornali ma ahi noi non è stato poi il progetto accettato e quindi finanziato che rientrava sempre nel programma del piano nazionale di ripresa e resilienza e quindi come ok questo era diciamo l'appunto che avrei voluto fare rispetto a quanto già aveva detto il mio collega so che avete in serbo anche delle proposte sì allora le proposte in questo anno e mezzo sono state fatte tante e in mente noi ne abbiamo anche molte altre da avanzare all'amministrazione per il miglioramento del nostro territorio della qualità della vita dei cittadini e io in particolare che poi abbiamo diciamo portato assieme con i miei colleghi consiglieri di minoranza ci sono alcune proposte che si rivolgono ai più piccoli la prima che è quella che a cui tengo molto perché mi fa tornare indietro di qualche anno quando passavo le giornate a giocare nelle piste polivalenti del nostro comune a giocare a pallacanestro a calcio con i miei amici è quella appunto di chiedere al comune che si prenda cura di queste piste polivalenti che sono all'incirca 7 8 in tutto il territorio comunale e che versano in uno stato manutentivo abbastanza abbandonato e sono penso che sia un luogo molto importante da incentivare soprattutto per la fascia più piccola ma anche per i più grandi perché stimolano la socialità e stimolano la l'esercizio dell'attività fisica all'aria aperta e quindi quello che chiedo è al comune che chiediamo al comune è quello di prendersi cura di metterli in sicurezza dove è necessario metterli in sicurezza e eventualmente di fare dei piccoli anche dei piccoli interventi di manutenzione dotarle di strutture come può essere un il canestro oppure le porte da calcio ad esempio mi viene in mente quella la pista polivalente del lungomare Cristoforo Colombo che è in una posizione veramente ideale ma che ai noi durante il periodo estivo è completamente inutilizzata e anche verso in uno stato di semi abbandono ma anche la pista polivalente di via Brodolini oppure la pista polivalente di via l'Europa nei pressi del bocciodromo quindi questa è una prima proposta se posso andare avanti un'altra proposta che riguarda sempre la parte più giovane della popolazione era quella dell'introduzione che avevamo presentato una mozione che poi c'è stata rispinta ma che continueremo andare avanti su questa su questa strada riguarda l'introduzione del servizio mensa scolastica e che appunto noi riteniamo che sia molto importante istituire il comitato mensa cioè un comitato composto da docenti da genitori e da personale del comune che valuta il servizio erogato nelle mese che sono nelle mese delle scuole elementari e dell'infanzia e appunto in modo tale da stimolare il confronto nell'ottica del miglioramento del servizio e poi ne dico solo uno per non portare via troppo tempo e visto anche il periodo dell'anno in cui ci troviamo riguarda il l'incontro al favorire l'incontro tra domande offerte di lavoro il comune di mondolfo in particolare marotta come diceva anche il capogruppo anteo poco fa è un comune che vive di turismo soprattutto nell'estate e questo turismo quindi di conseguenza ci sono molte attività produttive strutture ricettive ristoranti bar esercizi commerciali stabilimenti malneari che anche a seguito di diverse segnalazioni vediamo fanno difficoltà a trovare il personale da impiegare quindi noi quello che chiediamo è che abbiamo anche chiesto con una mozione che poi c'è stata diciamo in parte accolta è quello di istituire un luogo che noi abbiamo visto villa valentina che proprio si trova sul lungomare cristoforo colombo e quindi anche logisticamente può essere un luogo che favorisce l'incontro tra domande offerte di lavoro in modo tale che il comune sia vicino da un lato agli imprenditori che fanno fatica in questi ultimi anni a trovare personale da impiegare nelle proprie strutture nelle proprie aziende dall'altro il comune è vicino al personale che in cerca di lavoro bene io direi di chiudere con una battuta visto che lei ha fatto proposte che riguardano i bambini che riguardano i giovani direi di fare una battuta importante anche per un'altra categoria ovvero gli anziani vorrei menzionare appunto la casa di riposo caradorini allora la casa di riposo caradorini è una struttura che ha bisogno lo diceva anche mi pare il capogruppo poc'anzi ha bisogno di essere rivalutata ospita a pieno regime 60 persone 60 anziani donne e uomini lì c'è diverse esigenze che si vanno come dire a concentrare innanzitutto bisogna essere consapevoli che tra qualche mese su quella casa di riposo va rifatto il l'accreditamento per cui da questo punto di vista ci saranno da fare lavori manutentivi anche innanzitutto di verifica e poi eventualmente di consolidamento della struttura stessa da un punto di vista proprio di sismicità perché comunque è una struttura nata prima degli anni 90 e insomma gli anni sono passati le norme erano diversi quindi bisogna assolutamente andare a verificare poi su quella casa di riposo devo dire insomma che facendone parte io e lo stesso buonaccorsi di una commissione di verifica ci siamo riuniti più volte anche con pezzi di maggioranza e tuttavia insomma delle problematicità ci sono che è quella del fatto che l'assistenza medica o infermieristica dal nostro punto di vista andrebbe migliorata allungata come periodo è pur vero che oggi si sta all'interno dei parametri di legge però è anche vero che se alcuni di quelli anziani semplicemente hanno bisogno di prendere un medicinale di assumere un medicinale o piuttosto una una puntura nel periodo in cui non c'è né infermiere né medico chiaramente non è l'os che è di servizio che può somministrare questi medicinali per cui insomma alcuni problemi ci sono abbiamo fatto in commissione delle proposte e tuttavia quando si è parlato di questi problemi in consiglio comunale è una stoccata che voglio lanciare al sindaco perché il sindaco e l'assessore andreoni hanno detto che va tutto bene siamo nei termini di legge anche gli altri componenti di parte maggioranza che si trovavano d'accordo con noi nel sottolineare queste necessità e queste esigenze si sono come dire allineati con la loro parte politica ecco io credo che anziani e bambini non possano essere essere trattati politicamente se c'è una esigenza bisogna riconoscerla e fare di tutto per poter dare una risposta positiva la risposta la si potrebbe dare anche con alcuni pezzi come dire mettere inserire una persona in più capisco benissimo che sia un costo ma se abbiamo visto in questo che è il bilancio di previsione del 2023 che ci sono maggiori entrate alcuni segmenti di queste entrate potrebbero e avrebbero potuto essere dedicati anche a queste esigenze. Bene io ringrazio allora i nostri ospiti per a questo prezioso intervento ringrazio riccardo sora in regia e tutti voi dell'attenzione vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci